Chi bene incomincia è a metà dell'opera. Entrate in curva immediata ed intuitiva con un assetto che agevola controllo e conduzione, garantendo il divertimento in discesa. Tutto grazie a nuovi raggi, allo shape con punte e code più lunghe, al baricentro avanzato e dal flex progressivo. Tecnologia 14 layer control e anima in legno rinforzata dalle lavorazioni in composito inserita in un tubolare di carbonio ad alto modulo con massima rigidità torsionale. Uno sci destinato a soddisfare i palati più esigenti. Hortless è uno dei nostri modelli con maggiore propensione discesistica, ideale per chi cerca uno sci che risponde immediatamente ai comandi e bensì adatti alle esigenze dei più evoluti sci alpinisti. Evoluzione della consolidata tecnologia del leggero a 14 strati. L'anima, realizzata con legni di differente densità, è supportata dalle lavorazioni in composito e dalle tecnologie ad alta stratificazione, che conferiscono rigidità torsionale e durabilità. Nuovi shape con differenti punti di contatto sulla neve, nuovi raggi, un baricentro avanzato ed un nuovo flex, che aggiungono alla nota a leggerezza ed affidabilità una spiccata propensione discesistica. Leawood Core. L'anima si compone di una parte centrale più leggera, accoppiata ad un fianco molto resistente, di una piastra centrale in fibra di vetro che dà forza e aumenta la resistenza torsionale. Il tutto avvolto in un box in fibra di vetro o carbonio. Attivo Shocks Absorber. Quattro elementi in polimero strutturale inseriti in senso longitudinale sui fianchi superiori dello sci. Hanno la funzione di assorbire le vibrazioni, proteggere e dare stabilità allo sci. Control Flex. Estremità ancora più morbide, centro sostenuto anche nella zona più arretrata, che permette di fare lavorare meglio il raggio dello sci in fase di carico, migliorandone conducibilità e controllo. High Box. Gabbia in carbonio a trama molto sottile, 3K, che avvolge internamente lo sci, conferendogli una rigidità torsionale superiore fino al 46%, senza penalizzare i valori di flessione dello sci. Duotech. Coda a flessibilità differenziata che migliora la fase di chiusura della curva e la stabilità direzionale con lo sci piatto, garantendo perfetta stabilità e sostegno. Radius Control. I tre raggi hanno la funzione abbinata al Flex di aiutare lo sciatore in fase di curva. Ingresso, conduzione ed uscita sono facilitati proprio dall'interazione tra Flex e raggi. High Connect. Un ponte collega internamente le lamine, mantenendo alta nel tempo la planarità dello sci. Con questa speciale costruzione, le lamine restano in sede anche a seguito di impatti importanti. No Shock. È l'astomero che, posto longitudinalmente alle lamine, fornisce una sorta di ammortizzazione, rendendo lo sci più stabile e lineare nella risposta agli stimoli impressi.